Stadio Guido Biondi e probabilmente il Trapani pensa troppo in fretta di mettere in tasca i tre punti del sorpasso. Sul doppio vantaggio in dieci uomini subisce la rimonta della Virtus, dunque rossoneri dal grande cuore. Circa 3.000 gli spettatori per lo scontro diretto delle ore 18 e Mr. Baroni che ripropone il 3-5-2 al cospetto del 4-4-2 di Mr. Boscaglia. In avanti i riflettori puntati sul bomber di Serie B Mancosu, partita frizzante e vibrante nel primo tempo. Non sarà il solito Lanciano, dirige Federico Lapenna di Roma 1. Ed è il Lanciano subito a mettere pressione agli avversari con Piccolo che entra quasi in area di rigore, poi arma il suo sinistro, nessun problema per il portiere Nordi. dalla parte opposta a questo tiro senza problemi, bloccato da Sepe. Buon movimento per il Trapani, mentre la prima sostituzione è necessaria. Trest accusa problemi muscolari, il difensore Ferrario entra al suo posto, giropalla da parte del Trapani. Attenzione a questo tiro di Gambino che lambisce il palo, poco fuori sulla destra del portiere Sepe. E poi attenzione perché questo è il gol che spezza gli equilibri. Indecisione di Aquilanti, dietro alle sue spalle c'è Bomber Mancosu che non si lascia pregare e sfrutta l'indecisione clamorosa difensiva rossonera. Gol del vantaggio, rivediamo nel rallenti Aquilanti e Sepe. Aquilanti di testa si prolunga il pallone, Mancosu realizza il gol trapanese. Il Lanciano non sembra poter reagire con grandissima cattiveria e attenzione a basso che ha la palla buona per chiudere i conti e realizzare il 2-0 ancora il Trapani e vedete con questo tiro però alto sopra la traversa. Ancora una volta di Mancosu. Il Lanciano reagisce, lo fa con questo tiro di Casarini ma il portiere Nordi si fa trovare pronto. Ancora calcio piazzato, siamo sul finire del primo tempo. Ferrario riesce ad arrivare sulla traiettoria ma lo fa praticamente con la tibia e il pallone si impenna andando alto sulla traversa. Emozioni finite? Assolutamente no, con le immagini siamo nel secondo tempo e Mammarella si fa beccare sul doppio giallo. Fallo per lui, netta la trattenuta e dunque espulsione. Lanciano in 10 uomini per il Trapani. Sembra una pratica praticamente finita, guardate Gambino che arriva vicinissimo al gol del raddoppio che arriva subito dopo con Basso. Azione insistita, questo pallone di Mancosu che trova sulla traiettoria Sepe, pallone prolungato ed ecco Basso che di potenza infila il portiere Sepe che era a terra. Dunque in 10 uomini la pratica sembra conclusa non solo per i più scettici ma entra Tiam ed ecco il gol di Antonio Piccolo con Tiam che propizia. Dunque il lanciano è vivo e comincia ad essere tambureggiante col grande cuore, la grande generosità. Appungolare la retroguardia trapanese che nel frattempo si schiera abbottonandosi a centrocampo in difesa. Poi entra Manuel Turchi e Mametiam ruba il pallone a centrocampo da Terlizzi poi libera Manuel Turchi il suo destro ed è il gol del 2-2 nel tripudio generale sotto la curva sud. Calma calma ci sono io rassicurando così la curva sud e il popolo rosso-nero impazzito. La rimonta è ormai completa, avanti Virtus dal grande cuore, i play-off sono ancora lì.